Nicolò gara tiratissima, è arrivata la vittoria a questa splendida maglia rosa. Sì, gara molto dura, bella, non me l'aspettavo perché è dura, tirata e sofferta. Una dedica per questa maglia rosa? Al mio allonatore Marino e ai genitori. L'applauso degli sportivi per Asia Zontone che si conferma a maglia rosa vince anche la seconda prova del giro d'Italia. Applausi per lei! Brava Asia, brava lei, bravissima! Siamo molto contenta anche perché ci speravo tanto in questa vittoria perché mia madre si viene dalla Toscana quindi è un po' casa mia. Applausi per lei! Brava Asia, brava lei, bravissima! Grazie! 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 Grazie!